Allora, c'è tanta amarezza perché perdere non è mai bello, però comunque con le partite tutte ravvicinate la trasferta di Reggio Calabria ci ha un po' sovraccaricate, quindi la settimana non è stata molto facile perché c'eravamo tanta gente fuori e quindi il livello degli allenamenti non era facile mantenere l'alto, ma comunque quello che mi sento personalmente di dire è che questi sono momenti che capitano in qualsiasi stagione e quindi in questi momenti bisogna stare compatti e bisogna non mollare mai assolutamente perché solo facendo così e lavorando duro come facciamo ogni giorno in palestra otterremo quelli che sono i nostri obiettivi, cioè vincere con continuità. Peccato che veramente abbiamo aperto una striscia e purtroppo abbiamo avuto queste limitazioni, però comunque bisogna guardare avanti e soprattutto non mollare neanche un centimetro.